Il mio primo compito è quello di spiegarvi che tipo di società è una società matriarcale. Il mio primo compito è stato fatto con Bachofen e Morgan, l'antropologista Morgan del XIX secolo. E questi studi tradizionali sono stati conosciuti dal primo inizio con molti ideologi patriarcal e biasio male. E naturalmente se si pensa agli studi di questi antropologi del XIX secolo, si pensa a tutto quello di cui si parla che non è corretto in questi studi. E da allora naturalmente questi studi sono sempre stati utilizzati. E naturalmente ovviamente utilizzati male e non si è veramente arrivati a capire che cos'è una società matriarcale. E il patriarcato ha sempre inquinato qual è l'idea dell'essenza delle donne. E naturalmente la causa di tutto questo è stata la mancanza di una definizione scientifica sulle società matriarcale. E mancava proprio un metodo scientifico che potesse coprire questo grande campo di ricerca. E più leggevo di queste cose più mi veniva la voglia e l'idea di portare un metodo scientifico a questo campo. E quindi oggi vi voglio presentare i miei studi, le mie ricerche. che hanno una base empirica che si basano sulle società matriarcale esistenti. Questo significa spiegare come le persone in una tale società matriarcale esistenti. come organizzano la loro vita sociale, come si svolgono le loro economie politiche e quali sono i loro valori e le loro visioni mondiali. Questo non può essere scoperto dal passato, perché delle vecchie culture, delle culture antiche non realizzate. abbiamo solo delle rimanenze, abbiamo delle robine, di case, di tombe, abbiamo degli oggetti come stampa, immagini e del vasellame. sono anche frammenti di mitologia, che però sono stati coperti molto pesantemente dalle interpretazioni patriarcali dell'ultimo millennio. Anche se sono tanti, non ci possono comunque dare una visione globale del matriarcato. Questo è il motivo per il quale mi sono dedicata negli ultimi dici anni allo studio delle società matriarcali esistenti e solo contemporanei. e esistono ancora nei continenti di Lina, Asia, America e Africa. I could learn a lot from them and they allowed me to develop the full picture of Matriarch Society by my worldwide cross-cultural research. Io ho potuto imparare molto da loro e mi hanno permesso di sviluppare una visione totale della società matriarcale. Questo me l'ho permesso la mia ricerca interculturale. E brevemente vorrei illustrarvi i risultati di questi studi. Le società matriarcali non sono semplicemente l'opposto di quelle patriarcali, con le donne che comandano al posto degli uomini, come solitamente si pensa in modo non corretto. Le società matriarcali sono società centrate sulla madre, con le società complementari tra i generi e le generazioni. Questo significa che sono società con l'egualità del genere, cioè non ci sono gerarchie, non ci sono classi, non c'è una dominazione di un genere sull'altro. Sono società che sono basate su valori materni, significa prendersi cura dell'altro, avere un senso materno. E questo vale per tutti, sia per le madri, per quelli che non sono madri, sia per le donne che per gli uomini. Quindi il concetto matriarcale non è quel senso materno che vediamo come un'immagine romantica, che molto spesso viene fatta vedere dalle società patriarcali, è una finzione che svaluta veramente i valori materni e li fa apparire semplicemente sentimentali. Quindi le società matriarcali sono create consciamente con alla base i valori materni e il lavoro materno. E questo è il motivo per il quale sono molto più realistiche di quelle patriarcali. Il loro obiettivo è il bisogno, non tanto il nome di potere. E la dolorevole è quella di dare tutto quello che viene richiesto con il massimo beneficio per tutte le persone coinvolte. E quindi la maternità nelle società matriarcali che ha origine da un fatto biologico viene trasformato in un modello culturale. E' un modello molto più appropriato alla condizione umana e di quello patriarcale che concettualizza la maternità e lo usa per annullare le donne in generale, specialmente le madri. E questo è l'argomento degli studi matriarcali che si occupa e presenta a società matriarcali che esistono in tutto il mondo, nel passato e nel presente. E riguarda creare o dal luogo ha una definizione chiara e adeguata di queste società matriarcali. Such a definizione must be given for all levels of society, the social level, the economic level, the political level and the level of world view and culture. Questa definizione deve poter essere data per tutti i livelli della società. Questo significa che è una definizione complessa che però rivela la struttura profonda della società matriarcale. E come conseguenza di tutti i miei studi sono stata in grado o avuto successo nel creare studi matriarcali moderni. E ora vorrei darvi appunto la definizione di questa società, che naturalmente come ho detto prima è una definizione complessa perché riguarda tutte queste società matriarcali in esistenza. A livello sociale, le società matriarcali si basano sul clan e sull'ordine simbolico della madre. E questo naturalmente include anche i valori materni come principi spirituali, quello che le persone prendono, la gente prende dalla natura. Perché madre natura si prende cura di tutti per quanto diversi possano essere. E naturalmente questo si applica anche a un prototipo di madre, ma una buona madre che si occupa di tutti i suoi bambini e abbraccia tutte le diversità. E questo si applica anche ai uomini. Questo si applica anche ai uomini. Se un uomo in una società matriarcale vuole diventare importante tra le persone con cui vive o anche un rappresentante di questo clan al mondo esterno, allora lui deve essere come una buona madre. E questo è quello che dicono, che dice la società matriarcale Nina Nidavao della Sumatra. Nelle società matriarcale non c'è necessità di essere una madre biologica per essere riconosciuta come donna. Perché la pratica della maternità comune nelle società matriarcale è rivolta a tutte le presenti che si chiamano sorelle. Ogni sorella non c'è necessariamente di avere bambini, ma insieme sono tutte madre di tutti i bambini che ci sono. Questa maternità si basa sulla libertà delle donne di decidere da sole se avere figli o meno. Questo viene reso possibile perché in una società matriarcale tutti vivono insieme in grandi gruppi di parentela, formati secondo il principio della matriarità. Quindi il nome del clan, lo status sociale del clan, i titoli politici che potrebbero essere, ci sono tramandati attraverso le madri. Such a matriarcale consists of at least three generations of women along with their brothers, mathews and paternal uncles. For husbands and fathers are unknown in a matriar clan. The classic cases, in classic cases, the matriar clan lives together in a big clan house. This is called matriar locality. Questi clan consistono di almeno tre generazioni di donne e ci sono fratelli, nipoti e zii materni. Non si conoscono i termini marito e fratello. In tanti casi, il clan vive tutto insieme in una grande casa e questo si chiama matrilocalità. The spouses or lovers stay only overnight in a pattern called visiting marriage. E i loro compagni rimangono solo la notte in quello che si può chiamare un matrimonio di visita. Questi principi di matrilinearità e matrilocalità mettono le madri al centro, non in cima ma al centro. In questo modo le donne possono guidare i clan senza comandare. e naturalmente si occupano anche dei bambini che sono presenti e possono vivere una realtà paterna. In order to achieve social cohesion among the clans of a village or city, complex marriage conventions have been developed that link the clans in mutually beneficial ways, kind of support system. Per arrivare a una coesione sociale tra i clan di un villaggio o di una città, si sono sviluppate delle convenzioni complesse che li hanno collegati in modo da essere di beneficio a tutti. Ma naturalmente al giorno di oggi questi matrimoni tradizionali non durano molto e poi dopo poco tempo diventano simbolici e poi possono scegliere altre persone da amare. Ma per una società sono importanti perché tutti gli abitanti di un villaggio o di una città sono imparentati dalla nascita o dal matrimonio. E questo naturalmente dà luogo a una società che si vede come un grande clan dove tutti sono madre, sorella o fratello di tutti gli altri. E quindi la mia definizione delle società matriarcali a livello sociale è quello di società orizzontali non gerarchiche di una parentela matrilineare. E ora parliamo del livello economico. L'economia di una società matriarcale è un'economia di sussistenza. Non esiste la proprietà privata, non esiste avere un territorio. E quindi le persone hanno l'uso del terreno che lo utilizzano, degli animali che lo utilizzano. Perché hanno un detto che è quello che madre natura non può essere posseduta e non può essere ritagliata in tanti piccoli pezzi. Quindi madre natura concede i frutti dei campi e gli animali a tutti. E quindi apprezzamenti di terreno e un certo numero di animali viene concesso a ogni clan e questi naturalmente vengono lavorati dalla comunità insieme. Ma la cosa più importante è che le donne hanno il potere di poter disporre dei beni, delle case del clan e specialmente di quello che viene dato per il nutrimento. E quindi nei campi, del vestiame e del cibo. E quindi nei campi, del vestiame e del cibo. E' una condizione molto importante, quello che rende una società matriarcale a differenza di quella matri lineare dove sono gli uomini che dispongono dei beni. E quindi tutti i beni sono dati alla madre del clan, alla matriarca. Ed è lei, che è la madre di tutte le altre madri del clan, che distribuisce ugualmente ai suoi bambini e ai suoi nipoti. E quindi non si parla del possesso, ma si parla della distribuzione dei beni. Ed è la madre del clan che è responsabile per la sussistenza e la protezione di tutti i menti del clan. E quindi parliamo di quello che succede in un villaggio e in una città dove la pratica è quella della mutualità. Ci sono delle linee guida sociali che vengono utilizzate nella distribuzione e nell'acquisizione dei beni. Per esempio, a uno dei seasonali festivali dell'agricoltura, clans che sono comparativamente migliori, invitano tutti gli abitanti a essere loro ospiti. Alla fiera annuale dei prodotti agricoli, i clan che si trovano in una situazione migliore inviteranno tutti gli abitanti ad essere loro ospiti. E quindi i membri di questo clan organizzeranno un banchetto, organizzeranno i rituali, ci sarà della musica e dei balli, e poi regaleranno i loro beni, le daranno in dono ai loro vicini. E facendo in questo modo non tengono null'altro che amore. E quindi è come un cerchio in queste società, perché poi l'anno successivo sarà un altro clan che si trova in una situazione migliore a fare lo stesso e a donare a tutti quelli che gli sono vicini. E quindi, a differenza delle società patriarcali, non è accumulare i beni ma è ridistribuirlo a tutti. E quindi possiamo considerarle delle economie di dono. E questo mi fa definire le società matriarcole, società di reciprocità, è una società economica basata sulla circolazione del dono. E quindi potete immaginare una società dove nessuno diventa più ricco. E ora parliamo del livello politico delle società matriarcali. E quindi si segue il principio del consenso, ciò significa l'unanimità riguardo a ogni decisione che viene presa. Per arrivare a mettere questo in pratica, la società deve essere specificatamente organizzata nel farlo. e le parentere matriarie matriarie di nuovo sono il punto di partenza. Alla base di ogni decisione presa c'è la casa del clan dove le persone vivono. E il matriarca è il facilitatore delle decisioni che sono prese dalle donne e dagli uomini in consenso di questi clan. Nessuno è escluso da queste decisioni e ognuno ha un voto. E questo naturalmente si applica anche alle decisioni che vengono prese in un villaggio o in una città. Oggi ogni clan ha un delegato e questi delegati si incontrano in un consiglio, ma non rendono decisioni. ma semplicemente trasmettono le decisioni prese dal clan. E molto spesso questo delegato è un uomo. E molto spesso questo delegato è un uomo, vengono scelte i fratelli delle madri per essere dei delegati poi nei consigli. E questi delegati vanno avanti e indietro parlando con tutti tra il clan, il villaggio e la città finché non si raggiunge una decisione per consenso. E lo stesso si applica anche alle regioni. E queste regioni possono essere vivere e possono essere situate in loro vicini, come in Mosso e in Chibibia. E lo stesso si applica naturalmente alle regioni e non sempre è facile perché magari si trovano in zone disagiate, come per esempio in questa comunità di Masi. E la maggior parte di questi uomini, come è detto, sono uomini, di questi delegati sono uomini che sono stati scelti dal clan. E noi ricordiamoci che non sono loro che prendono le decisioni, loro sono quelli che trasmettono le informazioni. Quindi questi delegati fanno la spola tra i consigli regionali e i consigli del villaggio e poi a loro volta devono tornare al clan per trasmettere le informazioni. E questo sistema politico è creato da una rete di consigli che non è semplice alquanto complesso. E quindi l'origine di tutta la politica sta nei clan dove tutti vivono e in questo modo si riesce a mettere in atto una vera democrazia con le radici. E questo è il modo in cui i valori materni vengono riportati in una pratica politica. E quindi posso definire le società matriarcali per quanto riguarda la politica in società egualitarie di consenso. E potete vedere dove non è possibile un sistema gerarchico, un sistema di dominio di un genere su un altro genere. Però un sistema societario di tale tipo non potrebbe funzionare se non ci fosse alla base con un supporto profondo e penetrante di un atteggiamento spirituale. E quindi a livello spirituale e culturale le società matriarcale non hanno religioni gerarchiche basate su un dio maschio onnipotente e invisibile. Non hanno bisogno di esseri che nessuno ha mai visto. Nelle società matriarcale è la divinità emanente per tutto il mondo perché viene ritenuta una divinità femminile. E questo è evidente nel concetto dell'universo e cioè che la Grande Madre ha portato avanti tutto. dalla nascita perché è stata la Grande Madre che ha creato tutto ciò che è evidente. e quindi tutto e tutti hanno una divinità per il fatto di essere un figlio di questa Grande Madre Natura. E quindi in tale società tutto è spirituale. E quindi in tale società tutto è spirituale. Non c'è separazione tra il sacro e il laico. Non c'è separazione tra il sacro e il laico. Quindi tutti i compiti odierni anche le cose tipo cucire, cucinare, tutto quello che si fa ha un significato rituale. E in questo senso consideriamo le società matriarcali sacre. E quindi possiamo vedere che società intere sono costruite sull'immagine della Grande Madre Natura. La Madre Natura è la nostra insegnante come dice questa società Minantabau del Sumatra. Questa Madre Divina si riflette in ogni donna e nella sua abilità di procreare. e si riflette nelle donne in quanto hanno l'abilità appunto di creare vita e di mantenere vita. E quindi posso definire le società matriarchali a livello spirituale come società e culture sacre del femminile divino. E quindi posso definire le società matriarchali a livello spirituale come società e culture sacre del femminile divino. Vorrei mostrarvi delle foto di società matriarchali. E' una donna dei... E' una donna dei... E' una donna dei... E' una regione molto vasta, molto più grande dell'Italia e dell'Europa. E' una regione molto vasta, molto più grande dell'Italia e dell'Europa. E qui vedete una madre della Hopi in sud-est di Norte America. Che è... Che è... Che è... Che è... Che è una donna che è anche una donna di rituale. Che è una donna che sta creando un cesto e c'è un piccolo bambino appunto che lo guarda. E loro hanno mantenuto questa struttura matriarchale. E qui vedete un esempio di Centrale America, di Mexico. Queste sono le donne di Pochettano. Pochettano è la città di Mexico. E qui vedete una città matriarche, non solo una città matriarche. E questo è il mercato di una città. Pochettano. Pochettano in Mexico. E appunto questo fa vedere che non sono le donne a gestire tutto a livello del villaggio del clan, ma anche a livello della città. ci sono gli uomini che si occupano dell'agricoltura e le donne che gestiscono il mercato. Yeah. Next please. And here are some examples from Africa. Here are the Tuareg women of North Africa. They belong to the old Burba culture. These are the desert Burbas. And the Tuareg, even if the main are warriors, they have internally a major arm structure. And here are an example from West Africa. Here you see a queen mother with her daughter. The queen mother is the spiritual head of the archaic people. Each of the archaic people has a queen mother as their spiritual head. She shows her and his daughter some magic signs on the stool, which is her throne. And here are two examples from Asia. These are the Kazi women. The Kazi and neighboring people live in North East India. And they have major arm patterns. You see the Kazi women collecting their harvest. And here is the last one, which many of you have seen in the film of Francesca Freeman yesterday. They are dancing one of the sacred dances. They have major arm patterns. And I did research there in 1993. At a time when there were no hotels, no cars, no streets, and only very, very few tourists. I will finish here and I would like to hint at my book. There are only few examples. In my book you find many more examples of still living matriarch societies. But it is not about collecting major arm peoples which still live today. The book is also showing step by step by analyzing each of these societies how the complex picture of a major arm society is, what a major arm society is, is developed throughout the book. And if you are interested in how these major arm patterns can be put into practice or implemented today in our modern society, societies, and if you are interested in how these societies, I wrote a little brochure The way into an egalitarian society I wrote a little brochure The way into an egalitarian society The way into an egalitarian society The way into an egalitarian society Which of course is a modern matriarch society And you can find this small brochure also at the book table And it is for free, it's a gift for you. It is for you And you can find it on the table You can find it on the book table you can find it on the title of the book table You can't find it on the web board You can find it on the list of the book table